Comunque la cosa più importante della foto con cervo e la lepre era sicuramente la lepre perché è l'epus corsicanus che è una specie diversa, questa adesso non è la lepre comune, quindi è molto importante a punto di vista conservazionistico. Peccato che l'abbiano mangiato. Allora questa è l'ultima presentazione se riesco ad aprirla, sarà breve insomma, vi vedo provati. Grazie. In collaborazione fra Ente Foreste e Ispra. E in base ai risultati ottenuti, insomma, questo ci ha spinto poi ad andare avanti nel progetto LIFE. Aspetta. Allora, chiaramente, parliamo di dati, in realtà non ne abbiamo ancora di tutti gli animali perché alcuni sono stati scaricati automaticamente ed altri invece dovranno essere recuperati in seguito al drop-off. E chiaramente questa azione, come abbiamo visto prima in tutti gli interventi che ci hanno preceduto, è organica a un progetto di conservazione più grande. Quindi la reintroduzione è soltanto un aspetto, in ogni assenza è soltanto un aspetto di tutto il progetto LIFE. che si basa appunto su ricostituire popolazioni selvatiche di cervo in Sardegna e a me incrementare, come abbiamo visto, la variabilità genetica del cervo in Corsi e soprattutto una parte importante era quella, come è stato detto anche da Carlo Garau, di interagire con la popolazione umana per aumentare l'accettazione anche appunto sociale di questa importante specie nel territorio. Uno dei problemi principali del cervo, vi ricordate come erano le tre popolazioni o che erano rimaste quelle storiche o comunque quelle attuali. Un problema appunto della conservazione del cervo è che riguarda il concetto di metapopolazione, cioè una metapopolazione costituita da tante popolazioni separate, alcune grandi che si chiamano Sorsa, altre più piccole dove di solito ricevono gli animali, che sono in contatto fra di loro. Questo contatto è importante perché consente alla specie o comunque a questa metapopolazione di superare eventi catastrofici come potrebbe essere un incendio oppure un evento critici di bracconaggio. Se però questa connessione si interrompe, gli animali non possono più arrivare da un ambiente, da un'area edonea all'altra e quindi questo va a causare l'estinzione locale di alcune popolazioni e il deperimento delle altre. Questa situazione come dicevo prima è quella tipica della Sardegna, vedete che abbiamo alcune popolazioni grandi che è alta e separata, questa è una situazione abbastanza vecchia, però comunque vedete che era un tipico caso in cui viene interrotto il flusso di individui da una popolazione all'altra e questo è un fattore di rischio molto grande. Proprio per questo abbiamo tentato, il progetto è quello di ricostituire questa metapopolazione andando cioè a ricreare nuove popolazioni. Ci siamo anche basati su uno studio sulla Human Dimension, qui è il risultato di uno studio di Human Dimension nel quale abbiamo somministrato tutta una serie di questionari alle persone che vivono nel territorio, dividendoli per esempio in agricoltori e turisti. Nel territorio si vedeva che chiaramente il turista è molto più propenso ad accettare il territorio per esempio, ad accettare il cervo nel territorio rispetto ad un agricoltore. Però al tempo stesso non tutti gli agricoltori avevano un atteggiamento negativo nei confronti del cervo e questo lasciava ben sperare come è stato detto anche prima perché chiaramente c'era possibilità di poterci lavorare, quindi non soltanto una chiusura sulla presenza del cervo ma anche una possibilità di accettare la popolazione di cervo perché vengano prese delle misure per attenuare l'impatto della specie nel territorio. Quindi il concetto portante del nostro life è stato quello di affrontare due differenti richieste una è quella della conservazione della sottospecie che come abbiamo visto è importante dal punto di vista anche europeo e grazie anche a tutta la sua storia evolutiva che abbiamo visto prima, abbiamo visto prima che deriva da animali presenti in Italia che non ci sono più, quindi è un pezzo di biodiversità presente in Sardegna e in Corsica che prima era presente in tutta la penisola italiana perché è da lì che sono stati presi gli animali che poi sono stati portati in Sardegna e poi in Corsica e quindi è importante conservarlo. Il tempo stesso è una specie che se voi leggeri i giornali in alcune aree della Toscana o dell'Emilia Romagna vedete che il cervo sta diventando un serio problema dal punto di vista agricolo così come il cinghiale, addirittura la regione toscana ha fatto una specifica legge per ridurre di percentuali impressionanti le popolazioni di ungulati nel territorio e quindi in prospettiva anche popolazioni di importanza conservazionistica potrebbero avere un impatto sulle attività antropiche e quindi quello che cerchiamo è di adottare la conservazione attraverso una strategia diversificata che cerchi di affrontare questi due temi. Per quanto riguarda quindi il primo aspetto è stato quello quindi di cercare di ricreare questa popolazione, per ricreare questa popolazione non possiamo semplicemente prendere i cervi e traslocarli in un'area dove ci sembra che possono starci bene, abbiamo chiaramente affrontato il problema dell'idoneità ambientale creando un modello specifico prendendo tutti i dati dei cervi che erano a nostra disposizione sia quelli del bremito sia quelli dei radioteremetrici o delle osservazioni per poi sovrapporlo a tutta una serie di variabili ambientali come l'altitudine, l'esposizione, il tipo d'ambiente, la distanza all'acqua e così via per andare poi a vedere attraverso un sistema che si chiama un modello di massima entropia che si fa con un software che si chiama Maxent, a vedere quali sono le zone più idonee e vedete che le zone più idonee sono quelle di colori più caldi quindi queste gialli o rossi, vedete quindi che non tutto il territorio della Sardegna è idoneo però ci sono soprattutto grandi zone dove il territorio è ancora idoneo e dove non sono però presenti popolazioni consistenti di animali quindi l'obiettivo a lungo termine è quello di creare più popolazioni possibili all'interno delle aree idonee e chiaramente al tempo stesso lavorare come dicevo prima sulla popolazione umana per ridurre magari con interventi di difesa delle culture, prevenzione di incidenti e così via in modo da consentire l'accettazione della specie. Questo modello è stato poi fatto anche per la Corsica e sempre nello studio iniziale di Tattibita e grazie a questo abbiamo poi identificato delle aree dove andare poi a emettere gli animali. Nel passaggio ho perso qualche fotografia, ovviamente il progetto è stato poi focalizzato in tre SIC, quello di Montarquento e Rio Piscinas in Costa Verde che è stata l'area dove abbiamo l'area sorgente dove abbiamo preso poi gli animali per la reintroduzione e le aree di reintroduzione sono invece quella del SIC del Golfo di Orosei e i monti del Genargento. Tutte e due le aree ovviamente rientravano fra le aree idonee del modello di idoneità. E vabbè, non si vedono i rappositivi. Questa, vabbè, nel senso, comunque forse l'avete nel depilante che avete nella cartina c'è una figura di questo tipo. Abbiamo fatto un PWA, cioè un modello dell'analisi della viabilità, della vitalità della popolazione per vedere, persimulando nell'arco di 150 anni quanto quali erano i fattori catastrofici che potevano portare alla estinzione delle nuove popolazioni. Chiaramente il bracconaggio è stato una di queste e soltanto mantenendo molto bassi il livello di bracconaggio era possibile consentire alla popolazione di riprodursi e di diventare autonoma. Questo ovviamente è molto importante e siamo stati in parte anche confortati dal primo studio, dal primo progetto pilota di reintroduzione del cervo Aula Sai e a Seui, perché ci sono stati soltanto due casi di bracconaggio, quindi una soglia molto bassa rispetto al numero totale degli animali. Grazie, quindi mettendo insieme i dati sull'idoneità e mettendo insieme quest'analisi della vitalità della popolazione. Abbiamo fatto quello che si chiama una SWOT analysis dove abbiamo preso in considerazione tutte le motivazioni, tutti i fattori che ci facessero propende in un verso o nell'altro, cioè se andare avanti con la reintroduzione oppure fermarci e ovviamente il risultato è stato positivo, cioè i fattori positivi legati alla reintroduzione erano molto maggiori rispetto a quelli negativi. Però come si diceva prima abbiamo adottato anche qui un atteggiamento di tipo di gestione adattativa, cioè ovviamente nel caso di animali messi nel territorio il monitoraggio è molto semplice da fare, basta mettergli un radiocolare e vedere se questi animali si stabiliscono nel territorio e se sopravvivono e quindi questo ci consente anche di vedere come evolve la popolazione e decidere se o cambiare area di emissione oppure modificare il tipo di area o il tipo di emissione. Allora in totale abbiamo messo nel golfo di Orosei 37 cervi, mentre invece nel monte del generale 132 per un totale di 69 individui messi in natura. Soltanto i primi 16 cervi nel golfo di Orosei sono stati, nell'area di Urzulei, provenivano da un recinto che era presente sempre in quell'area perché come diceva Lucio prima era il periodo in cui c'era la presenza della blutong e quindi non era possibile trasportare gli animali da provincia della provincia. Tutti gli altri animali invece sono stati catturati in Costa Verde con i recinti che abbiamo visto prima e poi immessi nel territorio e alcuni di questi appunto non tutti ma una buona percentuale sono stati immessi nel muniti di radiocolari, questi radiocolari di GPS e consentivano quindi di ricevere direttamente le localizzazioni dal computer oppure in alcuni casi quando non c'era copertura si deve scaricare i dati manualmente oppure recuperare il collare una volta che ha finito la sua vita operativa. Sempre alla Costa Verde come dicevamo prima sono stati presi gli altri 15 animali che poi sono andati in Corsica. Queste sono le foto che avete visto prima, le fasi di cattura, applicazione radiocolare e trasporto e poi liberazione. 22 animali sono stati equipaggiati con questi collari GPS e GSM e fra l'altro è stato eseguito anche uno studio pilota per vedere quanto le diverse ambienti potessero schermare la ricezione del segnale. Questo è importante perché quando avremo tutti i dati degli animali faremo anche l'uso dell'habitat però questo lo possiamo fare soltanto se sappiamo che i collari funzionano bene negli stessi tipi di ambiente perché probabilmente in alcuni casi all'interno del bosco riusciamo a avere dati localizzazioni buone in numero inferiore rispetto agli animali che invece stanno nel prato. Conoscendo quant'è questo errore possiamo correggere poi i nostri dati e effettuare un uso dell'habitat coerente. Ora chiaramente ho paura di andare avanti con le diapositive e sicuramente mancheranno altri grafici. Queste sono le due aree di studio almeno c'è ancora dove si vedono tutte le localizzazioni messe insieme, uno dei Monti del General Gente e una del Golfo di Oro 6, come dicevo prima non sono tutti gli animali che abbiamo uniti di radio pollari perché soltanto una parte abbiamo i dati. In base a quelli che abbiamo però abbiamo effettuato le prime analisi, abbiamo studiato il minimo pulicono convesso, cioè l'home range degli animali, questi sono gli animali che si sono spostati, questa è la stessa area più o meno, anche qui c'è una doppia cosa, abbiamo studiato quindi il minimo pulicono convesso e poi la media armonica, l'home range con il metodo di Kernel. Questo metodo è particolarmente importante perché al contrario di quello che avete visto prima, gli home range con il minimo pulicono convesso si ottengono soltanto unendo i punti più esterni delle localizzazioni, mentre invece il metodo del Kernel è molto più informativo perché ci dà quella che si chiama l'anatomia interna dell'home range. Pensate di vederlo come se fossero dei rilievi di montagna, una cartina topografica, le aree più scure, quelle più piccole sono quelle che sono più elevate, cioè quelle più frequentate dagli animali. E quindi vedete che l'animale, benché frequente un'area molto più grande, in realtà quella che possiamo definire come core area, quella area più importante, è ristretta a soltanto i nuclei rossi, poi chiaramente si sposta anche in altre aree, però chiaramente quelle più importanti le abbiamo, appunto in questo caso le rosse e nell'altro caso le blu, quelle più interne. Si possono anche visualizzare in questo modo, questo è sempre un animale, lo studio di un animale appunto con il metodo di Kernel, l'home range dell'animale, vedete che le aree più chiare sono quelle più frequentate dagli animali. Quello è complessivo, cioè ci sono tutte le probabilità, qui invece abbiamo utilizzato soltanto la probabilità al 90% e quello al 40%. 90% vuol dire che c'è il 90% delle probabilità di trovare un animale ed è quello rosso, quello più esteso, mentre invece abbiamo identificato come core area l'isopleta intorno al 40%. E quindi quelle sono le aree più frequentate, quelle che vengono definite appunto le core area. Ed è proprio qui che dovremo poi vedere quali sono le caratteristiche di quegli e tipo di ambiente quando faremo lo studio dell'habitat perché ci danno informazioni supplementari, cioè su quali sono gli ambienti effettivamente frequentati. Questa si vede. Questi sono i dati complessivi degli animali divisi per maschi e femmine, abbiamo riportato il numero di fix medio per ogni animale. Dispersione, cioè quanti metri si sono allontanati dal punto di rilascio, in media sono 3.400 per le femmine e 3.155 per i maschi. Il minimo poligono convesso, appunto il tipo di home range che abbiamo visto per primo, è per le femmine 952 ettari, mentre per i maschi per 4.000 medio è 4.396. Però quello che dovete notare è che in nessuno di questi casi ci sono differenze significative dal punto di vista statistico perché per esempio come nel minimo poligono convesso vedete che, questo è un grafico appunto a scatole come si dice, vedete che per i maschi hanno delle dimensioni di home range molto simili a quelle dei femmine, ad eccezione per quello che si chiama di un outlier, cioè di un animale che si è espostato molto e quindi vedete che dal punto di vista statistico, questo è stato fatto con un test non parametrico, abbiamo confrontato i due medi perché erano pochi animali, non viene recepito come differenza perché comunque si tratta di che è soltanto un individuo che differisce dalla mediana degli animali considerati e questo vale lo stesso anche per il kernel al 90% e al 50% proprio perché vedete benché siano più elevati, molto da un singolo animale e quindi questo almeno per gli animali che abbiamo considerato non fa sì che ci siano differenze significative. Invece per quanto riguarda la dispersione non c'è nessun animale che sia spostato tantissimo di più rispetto all'altro e quindi vedete che i due grafici sono molto simili, si sovrappongono la mediana e la variabilità intorno alla mediana. E quindi in questo caso ci sono dei dati statisticamente significativi. Questa è l'ultima diapositiva, per ora abbiamo soltanto questi dati analizzati, chiaramente quando avremo la disposizione di tutti i dati scaricati potremo analizzare più in dettaglio tutte le diverse caratteristiche sia dell'uso dello spazio sia dell'uso dell'habitat. Sono morti soltanto quattro animali per causa naturale, non di tutti gli animali che abbiamo lasciato, soltanto quattro di quelli di coraglio collare sono ritrastati e trovati morti per causa naturale, nel senso che nessuno di questi aveva dei chiari segni di bracconaggio praticamente, ma soltanto uno stato di denutrizione, per esempio in cattive condizioni fisiche. Ok, questa era l'ultima diapositiva dell'ultima reazione, quindi adesso se avete dubbi, domande su tutti gli interventi che avete sentito oggi siete liberi, finché ce la fate abbiamo Grazie.